benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video e niente apro una piccola parentesi che praticamente se mi sentite con la voce un po così è perché sono raffreddata ho raffreddore e anche un po di mal di gola che mi pizzi all'occhio che mi lacrima ogni volta che c'è raffreddore c'è gli occhi che mi lacrimano un bel po comunque a parte questo poi apro un'altra parentesi che praticamente scusate un attimo che praticamente mi sono scordata cariche batteria io come una scema a casa del mio ragazzo del samsung s8 plus come sapete il sabato vado solo a casa del ragazzo mio dopo lui ieri ho portato domenica del tardo pomeriggio a casa va bene e mi sono scordata infatti adesso ce l'ho spento perché non lo volevo scaricare di più dato che ero arrivata al 43 per cento e di solito perché faccio i video col samsung s8 plus oppure col huawei dipende che video devo fare intanto faccio il video ecco col huawei o col samsung dipende e quindi adesso sto facendo il video con il huawei altra volta quando avete visto lo stesso tappetino questo qui blu grittelato che avevo fatto il video quello dei passi lunghi dei colori della novità delle offerte ha usato il samsung infatti il video era anche una bomba anche questo si vede bene ogni tanto pare che va via un po cioè che si vede in tanto sfogato però speriamo di no che vediate bene comunque e quindi adesso sto registrando con il huawei niente va bene va andare cianci e vi devo fare vedere i miei acquisti che ho fatto sabato e domenica sabato dai cinesi quindi è tutta roba dei make up tutto make up poso truccoso insomma allora sabato ho fatto l'acquisti su dei cinesi sulla serigaglia invece domenica aperto un uovo cinese qua vicino casa mia sotto casa mia è molto grande molto bello c'è un sacco di trucchi stupendissimi e lì ci ho preso quante cose una solo tre cosine la prossima volta voglio fare più scorta comunque adesso mano mano che faccio vedere i prodotti vi come si dice cioè mano mano che faccio vedere i prodotti vi dico dove l'ho presi eccetera e altre cose che volevo prendere allora partiamo intanto con un attimo che non c'è tra niente con questo rossetto qua questo qui della susie matte rossetto mi siete già spaccato però va bene questo è il preso dei cinesi sotto il ragazzo mio ma l'altra volta quindi non era l'acquisto dei dei ieri che è questo colore qua questo marroncino faccio vedere qui che matt eccolo qua questo molto molto bello adesso vi faccio vedere tutti i rossetti che ho preso poi questi altri due invece mi ha fatto un regalino mio padre che me l'ha presi al dico al tuo d dove noi andiamo a fare la spesa che c'è stata una parte vicino alla casa dove c'è stata tutti questi riuscite labbra altri rossetti c'è stata anche il mascara c'è stata le palettine queste cose qua e mi ha preso questo qui bianco non so se c'è la numerazione poi si è adesso va uguale che è un questo brillantiato bianco che è così perché si vede appannato se lo metto questo proprio di questo molto bello questo anche sopra un altro rossetto che da quella lucidità quello spiccoso insomma e quest'altro che appare un marroncino brillantinato che è così eccolo qua belli come colori non è male aspettate io provo a tirare indietro la videocamera perché troppo vicino mi fa appannato ecco così è meglio quando mi fa vedere appannati va beh scusatemi ma purtroppo è così allora quindi cominciamo gli acquisti adesso questi questi tre erano vabbè questi due gli acquisti come ha fatto mio padre come l'ho ripetuto lì al dico questo l'ho preso tempo fa poi dai cinesi quelli su a senigallia ho preso questi qui che è usciti nuovi questi qui della sibella sempre rossetto matte per questo su un marroncino più o meno so che colore è questo molto bello rosato molto bello poi lo profumo anche ho preso questi due che di già io questi due l'avevo presi c'erano presi altri due tempo fa l'anno scorso se non erro ancora c'erano che questi sono matte e sempre della sibella molto bello il packaging così zebrato oro e zebrato bellissimo tutti grato questi 2 euro 90 sono costati quest'altro pure 2 euro 90 quell'altro non lo so e niente sono matte ho preso questa colorazione qua questo rosa questo rosa qui molto bello e poi ho preso quest'altro di questa colorazione qui barruccina che ci sta un po' dei glitter pare è questo e adesso ah no poi ci ho preso anche questa palettina qua che questo qui è un fard questo mi ha costato 2 euro e 50 molto bello anche questo glitterato glitteroso pare un po' con i brillantini questo marroncino chiaro che è così vedete il dito un bello anche questo quello qua questo qui poi lo metto da qua dei cinesi sempre quelli da su Senigallia guardate quante carine queste due palettine sono uguali ma i colori dentro sono diversi sono della easy paris cosmetic questo è lo specchietto questo lo pagate 3 euro luna e guardate che figato è lo specchietto vedete lo potete girare come vi pare guardate fighissimo e ci sono queste tonalità qui dei colori qui non c'era il pennellino vabbè questo è un blush rosa poi c'è il bianco due tipi di marroncino questo è un bronzo pare il viola uno più chiaro uno più scuro e un rosa adesso proviamo un attimo il viola per vedere come è se è scrivente o meno ma cacchio scrivono benissimo wow si sono scriventi insomma quindi questa è una la seconda palettina che ho preso questo pure sempre con lo specchietto che si ergira ha questi colori qua sempre un blush questo è il rosa normale quell'altro era shimmer glitterato un po' qui ha l'autorità del barrone questo non so che colore è un viola scurissimo rosa o viola un rosa bianco proviamo questo che è un po' più chiaro vediamo com'è è qua wow bellissimo questo wow bello guardate quanto scrive già faccio più con sto occhio ragazzi scusate oggi è un video un po' qui ci ho messo male eccolo qua questo bellissimo vedete un palettine quindi 3 euro l'una e adesso passiamo alle tre cose le ultime tre cose che ho comprato invece dei cinesi quelli nuovi qua giù in Ancona sotto casa mia aperto sono stata felicissima bellissimo proprio e questi qui ci vuole fare la collezione perché c'è stato il sacco di questi tanti che sono lip gloss matt e ho voluto prendere questo qua viola perché comunque non ce l'avevo matt scusate scusate un attimo che sto metto a posto eccomi della whiny è fatto in questo modo c'era bellissimo questo prima che mandava via che ieri l'ho provato anzi lo provo qua sopra aspettiamo poi che si asciuga così dopo ve lo faccio vedere asciutto comunque questo colore qui dopo tra poco quando si asciuga ve lo faccio vedere bellissimo questo due euro mi pare costato mi pare due euro e poi ho preso due pallettine ne avevo prese tre però non mi bastava i soldi la fine le ho prese solo due allora ho preso questa qui sempre della whiny ombre bellissima questa bellissima tanto se ce la faccio ad aprirla adesso questa è costata tre euro oppure qualcosa al pellino qua guardate quante belli c'è il bianco questo è normale quest'altro tutti i shimmer e c'era uguale questi colori soltanto n'erane shimmer ma erane matte normali c'è questo giallo verde questo viola blu bronzo grigio e un nero io volevo provare questo un attimo c'è bellissimi wow guardate che roba ma guarda quanto scrive bellissimo madonna guardate che roba ragazzi c'è stupenderrimo fa vedere questo giallo wow ragazzi c'è non ho mai visto di ombretti di ombretti così scriventi guardate aspetta provo un attimo questo viola che mattizza anche wow questo sposta tutto wow guardate quanto scriventi c'è bellissimi guardate che roba ragazzi c'è bellissimo proprio wow guardate la mano non mi immaginavo proprio invece questo qui il bianco matte aspetta provo quest'altra mano provvede anche se matt scrive pare di sì a parte questa adesso è bianco non si vede in cazzo wow bellissima sono soddisfatta di questa palette a sto punto wow wow bellissima se la trovate simile anche della vostra e parte prendetela perché ne vale la pena cioè guardate che roba quanto sono scriventi cioè bellissima tanto poi l'ultima palette è questa qui è questa che ne avevo prese due che è uguale solo con colorazioni diverse come impostata molto bella pure questa della wine e pure questa 3 euro qua sotto non c'è scritto niente ok ecco c'è due pennellini cioè guardate i colori stupendi qui c'è tra il bianco il bianco brillantinato nero brillantinato nero matte quest'altra è tutti shimmer c'è stupendi proviamo questo grigio questi da vederli pare che scrivono si è tipo come quell'altra questi metallizzati bellissimi proviamo questo qua tipo bronzo non so rosa bello pure questi sono molto scriventi un po' più delicati di questi questi più glitterati questi più metallizzati ne provo un altro proviamo questo verde mattizza questi colori wow bellissimo dai ne provo un altro l'ultimo prendo questo qua wow bello bello questo poi si sfumano anche bene guardate qui siete questa palettina qua cioè bellissimi questi metallizzati questi sono una bomba ragazzi comunque guardate che roba e niente questa qui era il mio acquisto è finito qua tutte le cose che ho preso sono tutta un pasticcio ecco vedete questo si è si è asciugato ma poi non sporca proprio adesso si ancora si è asciugato ed è perché l'ho steso anche male ma comunque è bellissimo questo questo qua quando è me lo metto in tre labbra voglio vedere come è ma no questi stupendissimi ci sono rimasta bellissimi proprio questi sono i rossetti li faccio rivedere questi sono di questa palettina qua e questi sono di questa palettina qua totalizzati bellissimi e niente spero che questi miei qui si insomma dai cinesi vi sia piaciuto se è stato così mettete pollice in su sotto il video se mi volete mi commentate io vi mando un grosso bacio ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao Autore dei sorrisi